Ecco la firma con la quale Sergio Giordani accetta la candidatura a sindaco di Padova. Oggi mi sento un uomo fortunato, ha detto l'ex presidente dell'Interporto e del Calcio Padova, che ieri ha festeggiato il suo 64esimo compleanno. Entro il fine settimana Giordani tornerà a casa, pronto a proseguire il cammino verso la guida della città. Alcuni mesi fa ho deciso in modo libero e autonomo di intraprendere un percorso appassionante a servizio della mia città, ha spiegato Giordani in una lettera aperta ai padovani. In questo cammino ho coinvolto centinaia di donne e di uomini e giorno dopo giorno ho assunto in modo sincero un impegno forte con i padovani. Un elemento fondamentale, ha scritto il candidato sindaco, è stato avvertire l'affetto della squadra con la quale in questi mesi ho costruito quel cambiamento che Padova merita e del quale mi sento responsabile. Una squadra, quella che accompagna Giordani, che il candidato sindaco definisce forte, unita e competente, che in queste ore ha saputo continuare con passione nell'impegno che si è assunta con la città.